ciao a tutti bentornati sul mio canale sono tornata dopo circa una settimana di pausa oggi sono contentissima di fare un nuovo unboxing con voi sto parlando sempre di accessori so che vi piacciono la maggior parte delle ragazze che mi seguono su youtube ma anche su instagram lo fanno perché sanno che sono una appassionata insomma di gioielli per cui oggi vi faccio conoscere una nuovissima azienda se non la conoscete già perché è presente su instagram e su tantissimi altri social da molto tempo c'è anche un sito online dove potete comprare ma prima di passare a farvi vedere che cosa mi hanno mandato vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto attivare mi raccomando la campanella qua sotto e vi aspetto come sempre anche su instagram dove posto storie quasi giornalmente o comunque sono molto più attiva anche tramite direct come vi stavo dicendo oggi vi faccio conoscere una nuova azienda per quanto riguarda insomma il mio canale io la seguivo già su instagram ma insomma da appassionata di gioielli bracciali soprattutto immaginerete che seguo tantissimi profili e quando insomma sono contattata dalle varie aziende per far conoscere anche a voi insomma i loro prodotti sono davvero contentissima per cui ringrazio innanzitutto la geulia insomma per avermi contattata quindi arriviamo al succo geulia è un brand che produce gioielli ero lì lì per scegliere una collana ma mary credo che mi abbia contattata è una collaboratrice insomma di questa azienda mi ha fatto notare che purtroppo era andata sold out ho scelto comunque un gioiello personalizzabile la collana era della stessa linea del braccialetto che adesso vi farò vedere purtroppo mi ripeto era andata sold out tra l'altro la ragazza che mi ha contattata è stata di una carineria che voi non potete nemmeno immaginare credo che ci siamo scambiate una decina di mail perché in primis ovviamente mi ha voluto dire di insomma cambiare l'oggetto che avrei voluto insomma mi fosse spedito perché la collana era terminata quando ho scelto il braccialetto per forza di cose mi sono buttata su un ennesimo bracciale mi ha fatto vedere man mano la personalizzazione come sarebbe risultata cioè mi mandava le foto ogni volta che loro incidevano il singolo la singola parda insomma di questo bracciale mi mandava una mail con la foto non mi è mai successa una cosa del genere per cui sono stata seguita dal principio alla fine davvero in maniera egregia non ho ricordi di avere insomma avuto un servizio del genere nonostante non ho nulla a che ridire sulle collaborazioni precedenti anzi mi sono sempre trovata benissimo sapete che se ho qualche problema ve lo dico senza remore anche perché insomma ci metto la faccia per cui non potrei mai dirvi che una cosa è fatta bene eccetera se dopo vi arriva a casa una ciofeca o comunque una cosa che rispecchia tutto il contrario di quello che vi ha detto Laila ci mancherebbe un momento dell'unboxing ma prima vi voglio sottolineare che come tempistica contate circa due settimane e che il pacchettino era contenuto in una classica busta con la pluriball arrivato con raccomandata per cui state tranquille potete tracciare tranquillamente il vostro pacco una volta che insomma fate l'acquisto online la scatola di un cartonato molto molto pesante per cui insomma stiamo parlando di un involucro davvero serio all'interno che cosa abbiamo innanzitutto un catalogo è la prima volta che mi arriva un catalogo abbinato al gioiello che insomma mi sono fatta mandare insomma che acquistate è un catalogo con pochi focus sui prodotti che potete trovare sul sito ovviamente perché hanno tantissimi tantissimi insomma accessori poi c'era questo tagliandino con uno sconto poi cioè top vi arriva anche se voi non specificate che ciò che acquistate è un regalo il sacchettino il sacchettino dove poter inserire la scatola con il gioiello che c'è all'interno del del pacco ma in più che cosa c'è il bigliettino che voi potete personalizzare con una frase insomma un pensiero per la persona a cui andate a regalarlo ed anche che cosa un panno per la pulizia del vostro gioiello vi garantisco che un corredo simile non mi è mai arrivato davvero per cui insomma geulia top questo è il pacchettino insomma la scatolina che c'è all'interno di quella più grande sembra tipo gommata insomma una scatola seria bella sempre quella scritta geulia e all'interno ecco il braccialetto ho scelto un bengol contate che primo chance l'ho già ho già tolto la pellicolina però volevo ho lasciato le altre due gli altri due chance con sempre questo involucro chiamiamolo così per farvi vedere come vi arriva il gioiello contate che adesso comunque vi faccio una ripresa più ravvicinata che anche emma in questo caso era ben sigillata insomma all'interno di questa pellicola che loro vi mettono in modo tale che durante il tragitto non insomma i chams non si possano graffiare insomma vi mandano il braccialetto integro perfetto lucidissimo sono almeno il bracciale comunque tutti i gioielli che hanno sono in argento sterling per cui lo potete portare tranquillamente se vi fate la doccia se andate in piscina andate al mare si può pulire tranquillamente col sapone e quant'altro contate che le pietre che ho voluto far inserire all'interno del bracciale sono personalizzabili anche quelle nel senso voi potete scegliere il colore che volete far intervallare tra i vari chams se volete che corrispondano a un determinato mese ebbene sì perché loro l'hanno pensato così hanno pensato insomma di inserire questi tre ciondoli che poi voi potete scegliere se mettere non lo so tre maschietti due femminucce o come ho fatto io ovviamente la mia famiglia emma matteo e daniela hanno pensato insomma di intervallarli con il mese che può corrispondere non lo so alla nascita mese che non so vi fa vi ricorda un non so un evento particolare insomma poi decidete voi quando andate direttamente sul link comunque che vi lascio qua sotto nella infobox per vedere il braccialetto come personalizzarlo vedrete che potrete scegliere sia il soggetto il nome e potrete scegliere l'ultimo anche il colore della pietra da far incastonare tra i vari ciondoli io lo trovo bellissimo è una misura unica perché si può allargare tranquillamente vedete ha questo snodo tipo come se avesse una specie di molla all'interno per cui lo potete inserire nel vostro polso senza problemi ringrazio davvero tanto geulia per questa collaborazione perché insomma sono stata contentissima di ricevere questo meraviglioso gioiello e anche per insomma aver dato la possibilità al mio canale di farvi conoscere un nuovo brand dedicato soprattutto a coloro che sono appassionate come me di bracciali e accessori in generale vi lascio qua sotto anche un codice sconto contate che io non ci guadagno niente non sono affiliati non ve lo dico mai ma insomma questa volta ne approfitto per sottolineare anche questa cosa che non guadagno assolutamente nulla sono contenta anzi che le varie aziende lo lasciano per poter dare la possibilità anche a voi insomma di avere uno sconto qualora decideste di acquistare sul loro sito per cui insomma guardate qua grazie ancora a Mary e alla geulia per questa bellissima collaborazione vi aspetto sempre con tanto piacere sul mio canale in un prossimo video ciao a tutti